Prime ore, primi giorni di Super Green Pass abbinato al trasporto pubblico locale, insomma il tema è quello dei controlli. Come stanno andando questi primi giorni? Durante queste prime ore di applicazione del nuovo decreto emanato dal governo centrale siamo moderatamente soddisfatti. Abbiamo implementato i controlli sul territorio e nella giornata di ieri abbiamo controllato circa 3.500 persone di cui 200 non sono state fatte salire a bordo perché non munite del titolo del Green Pass. Ci siamo organizzati facendo prevalentemente i controlli a terra, quindi prima di salire a bordo dell'autobus in modo tale da poter gestire le eventuali problematiche che si dovessero venire a creare. È chiaro che siamo in contatto stretto con le forze dell'ordine. E in tutto questo, soprattutto nel trasporto pubblico locale, lo abbiamo detto anche in questi mesi, c'è anche il tema delle scuole che si interse. Assolutamente sì, noi soprattutto abbiamo intensificato i controlli nelle ore e nelle fasce interessate dagli ingressi degli istituti scolastici, ma devo dire che poi l'ottima campagna di informazione di tutti i media interessati e delle istituzioni ha prodotto i suoi effetti. In virtù proprio delle feste, cosa aspetta il trasporto pubblico locale come se lo immagina questo periodo delle feste? Diciamo che dovremmo continuare nell'esatto da come siamo partiti. Secondo me siamo partiti sufficientemente bene perché, poi ripeto, i controlli, il messaggio che è stato dato e che i controlli comunque ci sono, sono seri e fatti in maniera puntuale.